Quello on take è un portale che nasce nel novembre 2015, è un sito di recensioni innanzitutto in cui gli utenti possono trovare recensioni che spaziano sull'intera storia del cinema dai fratelli Lumière fino a oggi, ma è anche un sito che permette agli utenti di scrivere anche lui delle recensioni partecipando al nostro dizionario. Con una semplice iscrizione l'utente può creare una propria pagina personale, farsi seguire dagli amici, seguire altri amici, fare delle recensioni dei suoi film preferiti o anche di quelli che gli sono piaciuti meno e creare proprio una sorta di dizionario personale, un'ennesima pagina all'interno di un portale che è molto vasto e molto ampio in questo senso. L'on take però non è soltanto un sito di recensioni, di lettura e di scrittura, ma è anche un portale che permette agli utenti di andare ai festival, di andare nelle sale con degli sconti, di vivere in qualche modo delle esperienze da addetti ai lavori. E tutto questo poi si traduce anche in dei corsi, dei seminari di formazione che vengono fatti a Milano sul territorio in alcune sedi importanti della città milanese, a base in via Tortona, ma anche alla MIC, il Museo Interattivo del Cinema della Fondazione Cineteca Italiana, dove ogni mese vengono proposti seminari relativi ad alcuni registi, nomi importanti del cinema contemporaneo, ma anche dei workshop di critica cinematografica per i giovani, corsi di ABC del cinema, corsi in qualche modo che vogliono introdurre anche il linguaggio cinematografico a chi lo conosce meno. E infine l'ultimo passaggio che l'on take ha compiuto è stata la creazione anche di un festival, il Long Take Interactive Film Festival, che si è svolto a luglio del 2017, ma è pronta anche una nuova edizione per il luglio del prossimo anno, in cui sono gli utenti stessi anche a scegliere alcuni dei film che vengono proposti durante la Kermess, oltre ad alcuni importanti anteprime italiane e sempre eventi di formazione molto significativi. Un workshop sulla critica cinematografica, un workshop sulla BC del cinema e anche un workshop sul lavoro dei social network e il rapporto fra questi e l'universo cinematografico. Long Take quindi è un modo un po' per vivere il cinema a 360 gradi e le attività sul territorio milanese sono un po' il fiore all'occhiello di tutta l'attività che noi facciamo. Milano perché è una città che a nostro parere ha bisogno di cinema, di corsi sul cinema, di ragionamenti sul linguaggio cinematografico contemporaneo. Il pubblico risponde molto bene ed è molto interessante la varietà anche di pubblico milanese che frequenta questi seminari e workshop, dagli studenti appassionati di cinema che vorrebbero magari avviare poi una professione in questo campo, anche persone semplicemente cinefile anche di altre età che sono interessate magari ad approfondire i loro registi preferiti o magari anche chi è una neofita dell'argomento che vuole iniziare un po' ad approcciare questo mondo con un corso apposta come quello della BC del cinema. Un caro saluto a tutti gli amici di Milano Offline da parte di tutta la redazione di Long Take è stato un piacere essere in vostra compagnia oggi, grazie.